Guardate, guardate gli appunti di Arnido, questi sono tutti gli appunti che ha raccolto in due pagine di smemoranda sull'asteale e quindi ogni punto c'è l'acqua, c'è l'agip e quelli tirano la condizione da sinistra, da destra, il secondo punto è uno va e uno viene, questo è un tormentone dell'ergica, un attaccante deve andare a attaccare l'agip. Noi non avevamo tanti giocatori bravi a scartare e quindi dovevamo muoverci nei tempi giusti e negli smarcamenti giusti, Robby era uno che poteva saltare l'uomo, forse tre, Van Basten e Uri.